Ciao a tutti, sono Chloe di Wondershare Filmora, qui per potenziare il creatore di video dentro di te. Abbiamo visto nei commenti che ti è piaciuto molto il nostro primo video di idee per l'uso dello schermo verde. Quindi eccoci qui con la parte 2 di trucchi e suggerimenti per lo schermo verde. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Toc Toc! Chi è? Orange! Orange chi? Orange! Sei contenta di vedermi? Grazie a tutti! Eccoci qui! Queste erano altre idee che puoi provare con lo schermo verde o il chroma key. Quali proverai nei tuoi video? Facci sapere nei commenti! Non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per i nuovi video sul canale. Continua a creare e alla prossima volta!